C'è una neo-eurodeputata che ha voluto dire la sua su tante cose che si sono dette. Lei non poteva parlare perché, come è noto, era agli arresti. Sono stata una militante del movimento della lotta per la casa. In una delle città con gli affitti più cari mi batterò per il diritto all'abitare. È il manifesto della neo-parlamentare europea dell'Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis. Da quando era rientrata sabato scorso da Budapest, dopo la revoca degli arresti domiciliari e si era chiusa in casa dei genitori a Monza, Ilaria Salis, eccetto un paio di foto pubblicate sui social, non aveva dichiarato o scritto nulla e al suo posto, a una festa di sinistra italiana, si era videocollegato il padre Roberto. Il post di oggi su Instagram, diviso in sette schermate, diventa così la bandiera del suo mandato elettorale. Intanto l'euro-parlamentare rivendica la sua lotta e scrive Le pratiche collettive dell'occupazione di case sfitte rappresentano un'alternativa reale e immediata all'isolamento sociale e alla guerra fra poveri strumentalizzate tanto dalle forze politiche razziste quanto dal racket. L'Aler, l'ente pubblico che gestisce il patrimonio dell'edilizia popolare regionale, quello comunale gestito da metropolitana milanese, rivendica un buco di 90.000 euro lasciato da Ilaria Salis. Per 16 anni la donna avrebbe occupato una casa abusivamente in zona Navigli. Un consigliere regionale di Fratelli d'Italia ha chiesto all'azienda pubblica di pignorare il suo stipendio da euro-parlamentare. La Salis contesta il debito. La richiesta è basata esclusivamente sul fatto che nel 2008 sono stata trovata all'interno di un appartamento Aller. Dice però che dopo, per 16 anni, non sono stati fatti altri controlli per verificare che abitasse davvero ancora lì e che non è stato abbiato contro di lei alcun procedimento civile o penale per l'occupazione di quella casa. L'Aler poco fa ha replicato con un comunicato. La quantificazione e la richiesta di un'indennità non sono un'opzione, ma un atto dovuto di buona amministrazione. L'Aler nella nota minaccia querele e rivendica il contrasto all'abusivismo perché, scrive l'azienda regionale, chi occupa una casa toglie un diritto a chi è in graduatoria e l'attende rispettando le regole. Gli alloggi popolari Aller a Milano e provincia sono 50.000, 3.000 sono occupati abusivamente. In totale le case popolari sfitte, vuote a Milano sarebbero 13-14.000, 26.000 in Lombardia.